Ciao, hai la R moscia così? Oppure così? Oppure una bella R vibrante così? Ascolta il mondo e ascoltati. La tua R non è così moscia come credevi e la tua R non è così perfetta come credevi. E soprattutto, fare tle 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 non serve a nulla. Di video su trucchi ed esercizi per correggere la R moscia sul mio canale ce ne sono parecchi perché anche io ho avuto la R moscia. Per questo è importante che tu ti iscriva per non rischiare di perdere il sentiero e trovarmi ogni volta che vuoi. Nella prima parte di questo video ti farò notare quanto male percepisci la pronuncia della R nelle altre persone mentre nella seconda ti passerò qualche semplice esercizio che potrei fare quasi quando vorrai. Tutti quelli che hanno la R moscia hanno la tendenza a percepire il resto del mondo cioè quelli che la R moscia non l'hanno in maniera distorta. Mi spiego meglio. Ogni volta che incontro qualcuno per aiutarlo a pronunciare una R corretta una delle prime cose che faccio è invitarlo ad ascoltare in maniera critica la R delle altre persone. È così perfetta? Perfetto. È così vibrante? È così alveolare? Te lo dico io. La R pronunciata da quelli che non sono affetti da rotacismo non ha nessuna di queste tre caratteristiche. Perché? Perché è una consonante ostica e anche chi la sa fare non la fa proprio benissimo. Non ci credi? Ascolta con attenzione la R pronunciata da parenti amici e conoscenti e poi scrivimi nei commenti se ho ragione oppure no. Solitamente gli allievi alla lezione successiva mi dicono Ah ma lo sai che hai ragione? La R pronunciata dai miei amici è veramente una... Non usano proprio queste parole esatte ma il senso più o meno è quello. Accidenti. Mi farà più avere sempre ragione. Il primo passo per provare a risolvere questo difetto di pronuncia è prendere coscienza che non si è poi così distanti dal resto del mondo. Quindi questo passaggio dell'ascolto è molto importante. Il secondo passo è rendersi conto che non si può passare dal fare tle 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 a tre tigri contro tre tigri. Perché in questo modo risolvere la R mosha è quasi impossibile. E so per certo che alcuni professionisti chiedono agli allievi di lavorare in questo modo. birichini. È come prendere uno che non sa nuotare e passarlo dalla vasca da bagno all'oceano pacifico e pretendere che non affoghi. Occorre molto allenamento ma l'allenamento deve essere proporzionato alle difficoltà che sei in grado di affrontare in quel momento. Oltre a suggerirti di guardare questa serie di video ti lascio come promesso qualche semplice esercizio che ti può aiutare. Si tratta di esercizi eserci... Si tratta di eserci... Esercizi... Eser... Si tratta di un allenamento che serve a rafforzare ma soprattutto a rendere consapevole la tua lingua che nella pronuncia della R non ha un ruolo proprio trascurabile. Da soli non bastano. Abbinali agli esercizi che trovi negli altri miei video. Risparmi al tempo che usi a fare tle 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 che ha la stessa utilità di... Tomasticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebriche. Uno di questi esercizi molto semplice è un ritorno all'infanzia. Schiocca la lingua come per imitare il rumore degli zoccoli di un cavallo sull'asfalto facendola partire dal palato e giù verso il basso. Puoi anche cambiare il volume mentre lo fai. Un altro esercizio è quello di provare a toccare la punta del naso e poi il mento con la punta della lingua. Quasi certamente non ce la farai ma è importante che tu ti impegni a provarci. Odio essere polemico ma mi è stato detto che alcuni insegnanti sostengono che se non riesci a toccare con la punta della lingua la punta del naso non potrai mai pronunciare una R vibrante. Ma che poi io amo essere polemico. Lui probabilmente ci riusciva ma ti posso assicurare che la relazione tra il toccare con la punta della lingua la punta del naso e il pronunciare una bella vibrante è più o meno come i cavoli e la merenda. Non c'entra nulla. Sono a tua disposizione per una breve gratuita chiamata Skype se vuoi. Mi trovi facilmente sul mio sito ci sono tutti i contatti. Lascio il link in descrizione. Ma anche tu non dimenticare di lasciare un like a prrrrrr resto Grazie a tutti.